Tanto di cui parlare in questo Milan-Napoli, soprattutto di tanti episodi che a me non mi hanno convinto, di un arbitraggio secondo me a senso unico, andiamo con ordine, andiamo con ordine innanzitutto, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Allora, detto questo ragazzi, è una partita che mi aspettavo con più gol, ma è stata una bella partita, è stata una bella partita a prescindere dal fatto che al Milan secondo me mancano almeno tre gialli nel primo tempo, soprattutto quello di Leao sacrosanto quando spacca la bandierina, perché quello è sacrosanto, è un po' come quando si tolgono la baglietta quando fanno gol, quello è sacrosanto. L'espulsione di Anghissà, io onestamente se l'ammonisci 4 minuti prima non l'ammonisci 4 minuti dopo, visto come hai arbitrato tutto il match, perché tutto il match tu hai arbitrato in una maniera e poi nel secondo tempo cambi metro di giudizio, soprattutto, ripeto, ne parlo da esterno, perché sapete, io se sono tifoso talantino, sono obiettivo, sono sportivo, i milanisti sicuramente non saranno d'accordo con me, ma anche leggendo in giro qualche milanista sportivo che per fortuna c'è, anche loro non hanno capito il secondo giallo, perché per me il secondo giallo non c'è proprio, perché anche dall'immagine si vede che prende la palla, ok, è gamba alta, però l'hai ammonito 4 minuti prima, nel primo tempo hanno fatto dei falli che non l'hai ammonito nessuno. Non lo so, non lo so, sinceramente comunque è un Napoli che è osimen dipendente, l'abbiamo abbastanza capito, poi per carità è anche sfigato, perché anche Simeone è out, era Spadore a mezzo servizio, ha giocato poco e poi comunque sia ha giocato anche in quei 25 minuti che ha giocato, però ragazzi, ok, non stava bene, quindi probabilmente non avrebbe neanche giocato. È comunque una partita che è andata tutto in una certa maniera, perché ripeto, all'inizio è partito benissimo il Napoli, nel primo quarto d'ora il Napoli sembrava ammazzare la partita, perché subito il primo minuto neanche, probabilmente, Krunic salva sulla linea, un sinistro a botta sicura di Quara, poi un'occasione per Di Lorenzo, poi Magnan che fa una paratona su Zielinski, il Napoli sembrava veramente indiavolato, sembrava lui il diavolo, invece poi dopo ragazzi il Milan sbuca fuori con una progressione da 40 metri di Leao impressionante appunto, ma spreca poi quanto di buono aveva fatto, questo al 24esimo si vede il Milan, perché fino al 24esimo il Milan non si è visto, e appunto a questa occasione qui Leao calcia la bandierina, la spacca e manca un giallo, manca un giallo sacrosanto secondo me, qui, e poi ripeto, un arbitraggio molto all'inglese che lascia correre nel primo tempo, diversi gialli secondo me mancano, l'ho detto, l'ho detto subito, lo ripeto, non è per fare chissà che, perché io lo sapete, per me chi vinceva stasera era uguale, non mi cambiava assolutamente niente, speravo in una bella partita, ma la partita è stata, più nel primo tempo obiettivamente, poi ragazzi al 42esimo c'è un contropiede micidiale del Milan, che appunto trova il vantaggio con Ben Asser, con un'azione da manuale di Dias, ragazzi che dribbla due uomini al centrocampo, magia, si fa 20 metri, palla il piede, innesca il gol del 1-0 con una bella sponda di Leao appunto per Ben Asser, e Ben Asser che fino a quel momento non aveva brillato più di tanto, soffriva anche abbastanza, aveva sofferto anche abbastanza, ha richiamato più volte da Pioli, poi il Milan galvanizzato da questo gol, c'è Giroud che fa un gran lavoro, che poi in realtà si vedrà solo due volte in tutta la partita, il poveretto, Servetonali che di sinistro tira ma viene deviato in angolo, poi c'è la traversa di Chiar, un bel primo tempo ragazzi, dove probabilmente il Milan ha anche meritato il vantaggio, questo io mi sento di dirlo, io non ho detto che il Milan stasera non ha meritato di vincere, dico che stasera è stato un arbitraggio a senso unico da parte mia, io sono convinto che sia stato un arbitraggio a senso unico, dopo un'ottima partenza di Azzurri appunto viene fuori il Milan nel finale del primo tempo e poi c'è subito una traversa di Quara che si accentra e crossa e trova la sponda di testa di Elmas, ma appunto Maignan riesce a deviare il pallone sulla traversa, questo Maignan che per me oggi è l'MVP, io ve lo dico, è l'MVP del match Maignan, non l'arbitro ma Maignan. Ancora il Napoli poco dopo, appunto che parte alla grande come partita alla grande nel primo tempo, altra occasione di Lorenzo, ma adesso il capitano Azzurro viene deviato in corner. E poi c'è questa espulsione, questa espulsione con un doppio giallo in 4 minuti dove onestamente io ragazzi il secondo non l'avrei mai dato, non l'avrei mai dato il secondo giallo, dai. Allora o arbitri in una maniera tutta la partita, allora ci può stare, allora ci può stare, se nel primo tempo tu avessi dato le munizioni che ci stavano ci può anche stare. Ma si vede, si vede, se andate a cercare le immagini, nel momento che registro non so cosa ha messo il buon Ultras Mangatin che mi fa le copertine in copertina, si vede che non prende la palla, è alto ma non è fallo secondo me ragazzi, non è fallo tutta la vita, i milionisti si incazzeranno, io non so cosa dire, io dico sempre quello che penso nel mio canale, poi in maniera educata ognuno di voi può dire quello che vuole. E viene espulso a Anghissà, però non lo so, non lo so, sono sincero, rimango con tanti tanti dubbi, ci lamentiamo tanto degli arbitri italiani ma non mi sembra che gli europei siano tanto messi, meglio, assolutamente, perché anche ieri con l'Inter ci sarà qualche dubbio su certe cose. Poi tra l'altro un giallo a Kim che si fa prendere al nervoso, salterà e ritorno anche lui, quindi ritorno senza Anghissà e Kim, che non è poco per il Napoli stare senza Anghissà e Kim, sempre sperando che recuperino Zimè, che ad ora è in dubbio. Poi il Napoli in dieci gioca, se non fa niente gioca meglio, perché Di Lorenzo trova sulla sua strada Menian che fa una paratona e gli nega un gol che probabilmente meritava il pareggio il Napoli, io mi sento di dire questo. Poi appunto un minuto dopo il Napoli ancora un'altra grande occasione con Olivera, altra occasionissima, altra di poco. Ragazzi io non lo so, è una partita che mi aspettavo combattuta, che ero convinto che non fosse a senso unico come è stata in campionato, infatti non lo è stata. Una partita combattuta, una bella partita tutto sommato, perché uno si poteva aspettare anche due squadre chiuse, due squadre che magari cercavano, poi per carità il Milan molte volte partiva in contropiede, è vero, però ragazzi è stata una bella partita con occasioni di qua e di là ed è per questo che dico che sì il Milan probabilmente ha meritato di vincere ma il pareggio non sarebbe stato un furto, non sarebbe stato assolutamente un furto secondo me. Tra l'altro nell'altra partita il Real Madrid batte 2-0 il Chelsea, Carletto Ancelotti ragazzi è sempre Carletto, il Real quando arriva a questi appuntamenti così avanti non ce n'è, non ce n'è, attenzione perché per me anche quest'anno il Real arriva in fondo e anche bene, poi magari mi sbaglierò e quindi primo round al Milan, un primo round che vede comunque un Napoli nonostante l'interiorità numerica che ha un 53% di possesso palla contro il 47 del Milan, le occasioni totali 16 per il Napoli, 12 per il Milan, due tiri in porta del Milan, 6 del Napoli, mi seguite quando vi dico che probabilmente il pareggio è il risultato più giusto ma forse anche qualcosa di più, non lo so ragazzi, non lo so, sono sinceramente dubbioso anche perché comunque 10 corner per il Napoli, grandi occasioni più o meno uguali perché 2-2 per parte però io ripeto, un arbitraggio che speravo migliore in una partita così perché probabilmente con il arbitraggio migliore forse la partita sarebbe stata anche più bella perché poi dopo anche sul finale c'è un rigore contestato dal Milan che secondo me non c'è, meno male perché si dava anche quello, non lo so, sono curioso, sono curioso di sapere la vostra nei commenti, mi raccomando milanisti non vi incacchiate troppo perché io poi dico sempre la mia ma giustamente ognuno dice la sua, io penso che il risultato più giusto sarebbe stato quantomeno un pari e che comunque il Napoli nel ritorno può ancora farcela, può ancora farcela nonostante l'assenza ma serve uno Z-Man e serve maggiore precisione perché quelli lì in porta c'hanno Maignan, non ha nel 2 di briscola e complimenti perché Maignan MVP del match, hashtag arbitraggio ok per chi è arrivato fino in fondo mi raccomando aspetto i commenti di tutti perché sono proprio curioso e se esagerate con le infamate come sempre, vi saluto e vi vanno, non vanno mai nessuno quindi cerchiamo di andare per il verso giusto tutti quanti, vi ringrazio, forse ci vediamo domani per il post partita di Juve Fiorentina, probabilmente, molto probabilmente, non è sicuro ma molto probabilmente andatevi a vedere il video dell'Inter di ieri, i pronostici, quello che volete, se non li avete fatti potete fare anche solo quelli di Europa League e vi abbraccio di cuore al vostro motto e mi raccomando non vedo l'ora di rispondervi a tutti, ciao alla prossima e tifosi napoletani non demordete perché secondo me nel ritorno la partita sarà completamente diversa e ancora aperta uscire da Milano con un gol solo di scarto non è così da buttare via, nonostante tutto il resto ciao a tutti, alla prossima e alla vostra monta, iscrivetevi al canale, attivate la campanita mettete mi piace, condividete e commentate, ciao!